L'accoglienza migliore è quella diffusa e non le grandi concentrazioni, è il motivo che ha sancito la sospensione di Eco-Officina da Conf Cooperative Veneto e Feder Solidarietà. Già ad aprile, durante l'assemblea dell'organismo che riunisce le Cop Veneto, c'era stata la richiesta a luglio, la sospensione sancita dal Consiglio Nazionale. Nell'ultimo anno, infatti, Conf Cooperative Veneto ha detto più volte di aver richiamato Eco-Officina ad un comportamento in linea con i principi di Feder Solidarietà, ma la cooperativa che gestiva la Prandina e ora gli hub di Bagnoli e Conetta non ha mai cambiato atteggiamento. Di fatto non abbiamo visto modifiche in questo senso, sono in atto ulteriori accertamenti con i nostri revisori per capire se dal momento della messa in sospensione sono stati applicati dei cambiamenti che al momento non ho informazioni che siano stati fatti, quindi se nel corso dei prossimi mesi non ci sarà un cambiamento, di fatto andremo all'esclusione della cooperativa dal mondo di Conf Cooperative. Molto appesato anche l'indagine in corso nei confronti di Eco-Officina, i cui vertici sono accusati di maltrattamenti nei confronti di alcuni profughi ospitati a Montagnana due anni fa. La microaccoglienza è la via migliore per la gestione di un fenomeno complesso e massiccio come quello dei profughi, ribadisce Conf Cooperative Feder Solidarietà, l'unico che mira la qualità dell'intervento e non solo al mero business. Il modello Prandina o il modello Bagnoli, CONA, non ci vede d'accordo, nel senso che anche nell'affrontare il problema immediato dell'arrivo massiccio di persone può essere gestito sicuramente in maniera più adeguata rispetto alla mucchiata, perdonate il termine, che in questo momento stiamo vedendo.